Non si arresta la scea di incendi notturni in Salento se i mezzi interessati dalle fiamme nella notte indagano i carabinieri. A pochi giorni dalle elezioni arriva l'addio alla politica del candidato sindaco del comune di Gallipoli, Flavio Fasano, che rinuncia ad entrare in consiglio. A Novoli nominato il comune per la festa di Sant'Antonio per la prima volta con un bando pubblico. Ed ancora ben ritrovati, una donna salentina è stata assassinata in un bar a Torino. Sarebbe morta per aver rifiutato le avanze di un uomo, Carmen de Giorgi, 44enne originale di Galatina, ma da qualche anno residente a Torino. I militari di Pinarolo sono stati tempestivamente avvisati dal titolare del bar e hanno subito raggiunto il posto. Il suo assassino, un 34enne di origini marocchine, è stato arrestato a 100 metri al bar dopo aver provato una breve fuga. Aveva ancora con sé l'arma del delitto, un coltello da cucina con una lama da 30 centimetri. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Ofani Medì, attualmente in carcere, torno all'1.30 di notte, sarebbe entrato nel bar, si sarebbe avvicinato a Carmen e alle sue due amiche sedute al tavolo per sorseggiare un drink. Avrebbe sin da subito avuto atteggiamenti molesti nei loro confronti, stando a quanto dichiarato dai testimoni, in particolare le avanze, sarebbero state indirizzate proprio a Carmen. Le tre amiche, vista l'insistenza dell'uomo, avrebbero deciso a quel punto di abbandonare il bar. Carmen si è alzata in piedi e a quel punto del 34enne, impugnando il coltello, l'ha colpita più volte alla schiena. Poi si è scagliato contro le due amiche della vittima, ferendo anche loro. Purtroppo per Carmen non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo e quando i soccoritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'arrestato è risultato in possesso di un regolare permesso di soggiorno, al momento non risulta nessun precedente nel suo passato, nulla che facesse presagire quanto accaduto nel corso di quella maledetta notte. E non si arresta la scia di incendi notturni in Salento, sei mezzi interessati dalle fiamme nella notte indagano i carabinieri. Notte rovente in Salento, sei mezzi interessati dalle fiamme tra Calimera, Salice e Salentino, Presicce, Racale e Alliste. I danni complessivi ancora da quantificare si aggirerebbero attorno ai 150 mila euro. A mezzanotte le lingue di fuoco hanno divorato una vecchia auto di un 38enne di Calimera priva di assicurazione parcheggiata davanti ad un negozio dismesso che è stato interessato dalle fiamme, infatti una vetrata è andata in frantumi. Alle due a Salice e Salentino in via 20 Settembre ignoti hanno appiccato le fiamme ad un'auto e ad una moto di un meccanico 52enne, vittima di altri episodi simili in passato. Nessuno dei due mezzi è coperto da polizza assicurativa. Qui gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere interne dell'officina e si spera di fare chiarezza su quanto è accaduto. Terzo rogo a Presicce dove i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme su una Mercedes di proprietà di una società operante nel commercio di ortofrutta. E ancora a Racale in via Mazzini qualcuno ha tentato di dare fuoco ad un Ragnol Megane intestato ad un trentunenne del posto. È stato lo stesso proprietario a notare le fiamme. Fortunatamente danni solo ad una ruota, il principio d'incendio è stato domato autonomamente. Ad Alliste ignoti hanno appiccato l'incendio e danni di una Opel Mokka intestata ad un avvocato di Racale ma in uso al figlio domiciliato ad Alliste. La vettura si trovava parcheggiata in via Felice Cavallotti. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Anche qui si stanno analizzando le immagini di alcune telecamere presenti in zona. Su tutti gli episodi stanno indagando i carabinieri delle stazioni e delle compagnie del luogo. E parliamo ora di lavoro e sindacati e di lavoratori Sanità Service nuovamente sul piede di guerra. Un nuovo sitino di protesta organizzato dal Cobas presso la sede di Sanità Service di Lecce in via Miglietta per riportare l'attenzione sulla delicata questione dei mancati pagamenti e l'internalizzazione dei servizi di trasporto sanitari svolti dalla Tundo S.P.A. e per la modifica inoltre del Bando Pubblico di Sanità Service per il reclutamento del personale avente diritto tramite clausola sociale di salvaguardia. Il Bando pubblicato in questione dalla società non rispetta la clausola sociale perché non tiene conto della reale anzianità di servizio di ogni lavoratore creando in questo modo un appiattimento dei punteggi a vantaggio dei laureati. Si chiede di conoscere se i trasporti sanitari devono essere effettuati dai laureati o, come è successo dal 2010 ad oggi, dagli autisti e dagli OSS. Un'altra anomalie evidenziata dai sindacati nei punteggi espressi in decimi non vengono suddivise le lauree generiche da quelle specifiche, ma il punteggio è uguale per tutti. Nel Bando di selezione del 29 settembre 2021 non si è considerata l'anzianità di servizio dei dipendenti storici ex ASL, esternalizzati dalla Tundo per poco tempo, che però sono rimasti già da oltre dieci anni. Queste piccole riflessioni condivise da tutta la forza lavoro che presta servizio da diversi anni hanno fatto agitare gli anime e le coscienze dei lavoratori umiliati dal mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il sindacato e i lavoratori chiedono quindi una modifica radicale del Bando che rispecchi fedelmente la clausola sociale e fanno presente inoltre che Sanità Service non ha condiviso con i sindacati il Bando in oggetto e quindi rappresenta un atto unilaterale che non rispetta totalmente le previsioni di legge. Pertanto il sindacato ha chiesto un incontro urgente per la modifica radicale del Bando stesso. Dopo 40 anni Flavio Fasano abbandona la politica ed annuncia di rinunciare alla carica di consigliere di opposizione nel comune di Gallipoli. Flavio Fasano dopo 40 anni lascia la politica e annuncia che non ci sarà in consiglio comunale. Già durante i primi minuti di spoglio lunedì pomeriggio era stata percepita l'amarezza di Fasano poi confermata dallo stesso poco più tardi quando si è capito che il sindaco uscente della città di Gallipoli, Stefano Minerva avrebbe vinto al primo turno senza andare al ballottaggio. Vi chiedo scusa, aveva detto Fasano lunedì sera se non sono riuscito a convincere i nostri concittadini sulla bontà del nostro programma amministrativo per il governo della città. In me resta solo l'amarezza di aver visto quanto il sistema sia invincibile anche nei confronti dei programmi, delle idee, della generosa e gratuita disponibilità di tante persone per bene a lavorare per una città-comunità. A distanza di 24 ore, alla luce dei dati definitivi che hanno visto Minerva vincere con il 67% dei consensi e Fasano non superare il 30% arriva all'inaspettata notizia quella di lasciare la politica e rinunciare ad entrare nel prossimo Consiglio Comunale il tutto verrà formalizzato nelle prossime ore. I tempi moderni della politica, dice, vanno verso la costituzione di un legame con il sistema attraverso anche una totale perdita di identità politica e progettuale. Per sistema, conclude Fasano, intendo tutto l'universo dei partiti politici ed epotentati economici ed affaristici, tutto lecito per carità ma sicuramente altra cosa rispetto alla funzione di governo della cosa pubblica. Novoli già pensa ad organizzare la festa per Sant'Antonio Abate ed intanto tramite un bando pubblico ha costituito il nuovo Comitato Festa. Sindaco, per la prima volta il Comitato Festa Sant'Antonio Abate è stato scelto tramite un avviso pubblico. Novoli è molto legata alla festa di Sant'Antonio Abate quindi insieme alla mia amministrazione abbiamo deciso, insieme a Don Luigi che ringrazio pubblicamente abbiamo deciso di aprire il Comitato alla cittadinanza con dei manifesti, con un avviso pubblico sul sito del Comune di Novoli e siamo contenti perché hanno aderito più di 20 persone alla costituzione del Comitato Festa Sant'Antonio Abate. Un segno di continuità anche col precedente Comitato? Assolutamente sì perché il Comitato è composto oltre dai soggetti che hanno aderito fisicamente alla costituzione del Comitato anche dei cosiddetti volontari che lavorano alla costruzione del falò per devozione del Santo. Assessore, un passo innovativo, quello di coinvolgere la comunità attraverso un avviso pubblico quindi un segno di grande apertura della vostra amministrazione verso la comunità anche religiosa e sociale? Sì, assolutamente sì, abbiamo deciso di fare un avviso pubblico per la costituzione di un Comitato con la massima trasparenza dove chiunque ha avuto la possibilità di partecipare attivamente a costituire il Comitato senza tralasciare i volontari che contribuiranno a dare una mano nella realizzazione in primis della fogara e poi di tutto l'evento e altri eventi collaterali. Un grosso e forte in bocca al lupo a questo nuovo Comitato affinché possa gestire al meglio l'evento che caratterizza la festa a Novoli, quella appunto della fogara in onore di Sant'Antonio Abate. Può dare un suggerimento per la festa di Sant'Antonio o cosa chiede? Si deve fare la festa di Sant'Antonio, lo Marco sa impegnare con le mascherine e tutto via da certa distanza, si deve fare la festa di Sant'Antonio perché è il padrone dei Novoli e penso che il sindaco Marco lo farà. Ed è tutto il nostro OTG termina qui, grazie per averci scelto, per averci seguito subito dopo di noi Antenna Sud Sport con in studio il collega Dennis Magri. Grazie.